L'accoglienza Shanghai è caldissima per il clima, sicuramente per i tifosi che vi hanno aspettato all'aeroporto in albergo, com'è stato questo primo impatto? Anche me è buono sotto tutti i punti di vista, ottimo per l'accoglienza, buono perché abbiamo lavorato dopo una giornata di viaggio, si lavora discretamente bene a quest'ora, abbiamo una settimana per prepararsi a Melli a questa partita, sapendo che è una partita difficile perché è una finale, è una partita secca. In questa settimana ovviamente i carichi di lavoro diminuiranno rispetto a quelle precedenti? È una settimana come tutte le settimane quando c'è da affrontare una partita, quindi si lavorerà in funzione della partita. Una buona notizia, almeno a vederlo qui, è Andrea Barzagli con il gruppo può recuperare? Andrea Barzagli può recuperare, valuteremo in settimana, se non ci saranno alcuni rischi andrà in campo e altrimenti vedremo. Grazie a tutti!